ciao a tutti rieccoci di nuovo qua sul mio canale allora oggi andremo a fare un'altra capture the flag quindi su una macchina sempre che ho trovato su un hub e la macchina si chiama blue moon 2021 è una macchina del 2021 su questa macchina dobbiamo andare a catturare tre password quindi tre chiavi vi faccio vedere come la andremo a risolvere così che vedrete anche l'utilizzo di tool di cali linux che serviranno appunto per andare a trovare queste tre chiavi per cui mettetevi comodi e iniziamo subito con l'esercitazione molto bene allora come prima cosa andremo ad installare la nostra macchina su virtual box faccio vedere i passaggi che bisogna eseguire quando andiamo ad installare un file oa che abbiamo scaricato come ad esempio questa nostra macchina virtuale quindi il file oa è una macchina già pre compilata per cui non dovremo andare a creare una nuova macchina ma molto semplicemente dovremo andarla ad importare quindi file importa applicazioni virtuali ok andiamo a ricercare qua il file che abbiamo scaricato nel mio caso il file si trova in scaricati la macchina eccola qui blue moon punto oa apri successivo ram possiamo dargli possiamo lasciarli anche un 1024 va bene la macchina come potete vedere già preconfigurata quindi non dovrete toccare niente importa e la macchina verrà ovviamente importata sul nostro virtualizzatore ora un'altra cosa che bisognerà fare appena finirà di importarla il processo va a seconda della vostra cpu e della velocità del vostro pc quindi ci impiegherà un attimino considerate che questa qui è una macchina da 500 600 megabyte in download quindi insomma non è una macchina così complicata ma quello che dovremmo andare a fare adesso successivamente sarà andare in impostazioni ok rete scheda con bridge ok era già a posto ok la stessa cosa la facciamo con cali linux quindi impostazioni rete scheda con bridge questo perché perché se lasciamo nat o anche il nostro host only purtroppo ho notato che con virtual box non vi trova comunque sia la l'indirizzo ip con i comandi tipo net discovery eccetera di conseguenza è meglio usare la modalità bridge così almeno una volta che lanciate net discovery per andare a reperire l'indirizzo ip della nostra macchina che dobbiamo attaccare almeno abbiamo già il possiamo farlo insomma ok una volta installata la nostra macchina ad attaccare andiamo ad attivare cali linux e come prima cosa facciamo un un update and upgrade così che vediamo se ci scarica qualche cosa di nuovo quindi entriamo anche in modalità root quindi mettiamolo già in modalità root ho sbagliato la password giustamente allora allora c'ho il maiuscolo no e perché non vai è ok perfetto quindi apt meno get update andiamo a vedere se ci scarica qualcosa sta scaricando qualcosina ok perfetto dovrebbe aver quasi finito in teoria perfetto e qua si è impallato ok una volta fatto l'update andiamo a fare l'upgrade così vediamo di aggiornare la macchina da un po che non la giorno quindi magari mi scarica qualche cosa ed effettivamente mi scarica 206 megabyte quindi diamo sì e facciamo scaricare il tutto ci rivediamo al termine del download bene una volta che abbiamo finito di scaricare tutti i nostri aggiornamenti puliamo lo schermo diamo un po di invii e iniziamo a fare partire la macchina virtuale che abbiamo scaricato quindi avvia ok possiamo anche tenerla così tanto dobbiamo lavorare su terminale magari la ridimensioniamo un attimino ok così perfetto vediamo quanto ci impiega da avviarsi ok dovrebbe essere partita vediamo allora iniziamo allora con un comando base che quello per reperire l'indirizzo ip di questa macchina che è net discover net discover perfetto danno invio verranno analizzati adesso tutti gli indirizzi ip intanto vediamo se è partita sta macchina spectre mitigation e ok perfetto abbiamo trovato l'indirizzo ip della macchina che è questo qua e sotto pcs system system technic gmbh allora apriamo anche un nostro file di di testo dove andremo a inserire i nostri appunti quindi indirizzi ip iniziamo a scrivere ip 192.168.42.117 perfetto facciamo un salva dove lo salviamo lo salviamo sul desktop scrivania blue moon blue moon ok salva perfetto allora qua possiamo anche bloccare la scansione tanto lì più l'abbiamo trovato bene iniziamo allora con un end map a vedere che porte ci sono aperte allora quindi end map meno st e indirizzi ip 192.168.42.117 allora vediamo che abbiamo tre porta aperte abbiamo la porta 21 che è un ftp server abbiamo la porta 22 che è un ssh e la porta 80 che è praticamente il server web quindi possiamo intanto già andare a vedere che cosa sta esponendo questa macchina per cui recuperiamo l'indirizzi ip copia allora il browser può essere mozilla può essere chrome quello che volete e andiamo a vedere che cosa espone quindi indirizzi ip se lo copia allora e dai ok ok invio allora vediamo che è un sito molto semplice c'è un welcome are you ready to play with me sei pronto a giocare con me il gioco inizia allora possiamo andare a provare ad utilizzare un tool per andare a forzare l'url quindi intendiamo le directory file quindi il tool che andremo ad utilizzare sarà gobuster gobuster non è preinstallato su linux per installarlo è molto semplice insomma vi lascio poi i link in descrizione di come fare e che cosa andremo a scrivere per come comando per andare a fare forzare l'url io l'ho già preparato ed è questo che state vedendo dove ve lo spiego molto velocemente allora vabbè gobuster per far partire il tool ovviamente il tutto da root ok dir è praticamente la modalità directory quindi nel caso invece dovessimo trovare dei dns inseriremo dns meno t è il numero invece dei threat impostato ora abbiamo impostato 250 perché sennò ci impiegheremo una vita a fare questa scansione e poi abbiamo appunto l'url della macchina che vogliamo andare a scansionare quindi nel nostro caso la nostra macchina virtuale e la word list attenzione la word list sulle macchine virtuali ve lo faccio vedere giusto per conoscenza si trova in questa cartella vedete aprite computer file system usr share e qui ci sono tutti gli applicativi di kali quindi nel nostro caso andremo a cercare appunto le password di dirbuster non di gobuster infatti vedete che ho messo anche il nel link è dirbuster però tuttavia se voi le volete andare a vedere proprio fisicamente queste queste password le troverete appunto nella cartella di destinazione quindi se io ci clicco dentro vedete word list e ci sono già delle word list pre compilate ecco se invece volete ehm scaricarvi delle delle word list più complete basta che andate su sec list e ritrovate tutto quello che vi può servire allora torniamo al nostro terminale e quindi iniziamo a lanciare questa scansione ehm ok allora ci rivediamo quando la scansione è finita allora ehm ho fermato la scansione perché a parte che era quasi finita era il 96 per cento e quindi ehm diciamo che non avrebbe trovato assolutamente più nulla ehm ho fermato la scansione perché abbiamo trovato praticamente ehm queste directory quindi server status che ha però uno status eh ehm 403 quindi uno status ehm dove non abbiamo i requisiti diritti per accedere e abbiamo trovato poi quest'altra invece che è un hidden text e quindi io questa che ha status 200 posso andare a ad aprire per cui vado di nuovo sulla mia macchina virtuale ok slash e andiamo a copiare questo status questa directory scusate ehm ok andiamo a invio allora ci viene fuori questa pagina ehm dove c'è scritto manutenzione ehm ok per il scusate per il disagio vabbè ehm e abbiamo qua però un thank you con un link allora ci vado a cliccare sopra e praticamente si apre un qr code ehm allora quindi questo qr code possiamo ehm scaricarcelo per andarlo ad analizzare e come facciamo tasto destro save image as e lo salviamo in scaricati quindi salva perfetto dovrebbe averlo salvato allora vediamo un po' eccolo qui perfetto e intanto ci andiamo anche a copiare sul nostro file di testo il risultato della scansione quindi questo lo prendiamo e ce lo copiamo quindi copia ok incolla perfetto cancelliamo solamente l'ultima riga mi raccomando ragazzi copiate sempre tutto perché eh molte cose magari vi possono sempre tornare a servire ok perfetto diamo una salvata ctrl s così siamo a posto allora adesso dovremo andare a decodificare questo qr qr code che abbiamo scaricato su google se hai fatto una ricerca troverete tantissimi di questi tool per andare a fare queste codifiche io utilizzo questo che di cui vi lascerò poi il link nel nella descrizione è quindi è un online qr decode e qua cosa andiamo a fare andiamo ad inserire praticamente il qr che abbiamo trovato eccolo qui quindi apri upload upload ok ok allora una volta che abbiamo appunto caricato il nostro qr code come potete vedere è stato codificato decodificato e vediamo che è presente uno script con delle variabili da noi però di quello che ci interessa qui sono ovviamente user e la password e sembrerebbero proprio che siano gli username e le password del dell'ftp quindi dell'ftp server allora quindi le copiamo anche queste andiamo a inserirle qua sotto ok quindi host tp user ftp password ftp e vabbè ok diamo una salvata perfetto allora quindi adesso con queste possiamo andare a provare effettivamente visto che con la nostra canzone di map c'era un server ftp possiamo andare a vedere se effettivamente questo username e questa password le possiamo utilizzare quindi riprendiamo il nostro terminale facciamo un clear ok e proviamo ad andare ad entrare nell'ftp quindi ftp 192.168.168.42.117 e diamo invio allora quindi chiede la connessione quindi il nome e il nome era user ftp quindi user ftp perfetto perfetto diamo l'invio e andiamo a vedere se riusciamo a mettere la password copiandola quindi ftp password copia vediamo se me la prende così se no la scriviamo se no la scriviamo incolla invio perfetto come potete vedere siamo riusciti a entrare nell'ftp quindi login successful quindi siamo dentro l'ftp quindi vediamo con il comando pvd dove siamo quindi pvd eh sì certo pvd allora quindi remote directory home user ftp file ok allora proviamo proviamo a fare l'nls vediamo cosa c'è di bello ok allora ci sono due file uno information.txt e l'altro plist.txt però questi due file eh sono leggibili e scrivibili solo dal proprietario e come faccio a saperlo questi sono i permessi ok eh quindi proviamo a scaricarceli con il comando m get invio invio allora proviamo a fare m get eh sì da un po' che non lo uso questo m get sì devo mettere il nome del file effettivamente sennò non scarico un accidente quindi uno incolla invio m get l'altro è plist plist punto txt ok invio non l'ho preso perché perché non me l'ha preso list con la s accidenti a te va bene invio allora allora perfetto cambiamo il terminale e vediamo un attimino che fa il sono quindi apriamo un nuovo terminale ok ah 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 allora cut ah no mettiamo root anche qua sudo su ok quindi cut plist punto txt e certo dove mi li ha salvatimo eccolo lì e c'è il file perché non me lo legge plist con la s nam cintua ok quindi questo qua sembrerebbe un file addizionario vediamo invece quest'altro cut a dove me l'ho preso information quindi cut information punto txt allora ci dice hello Robin I'm ready told you about your password weakness I will give a password list you may choose anyone of the password allora quindi il primo un elenco addizionario e qui ci dice che la password list è quella del file precedentemente aperto e vediamo che però c'è un nominativo che è Robin allora quindi proviamo a tornare sull'ftp quindi ricambiamo la sessione ok ok torniamo sull'ftp e come vi dicevo prima pvd siamo in home quindi siamo in home quindi proviamo a tornare indietro di un paio di cartelle per tornare indietro di un paio di cartelle il command è cd puntini puntini slash puntini puntini slash ok vediamo adesso dove siamo pvd allora siamo in home vediamo cosa ci dice ok quindi mi è comparsa la lista degli user e stranamente c'è anche Robin sono tre gli user quindi Jerry Robin e user ftp e anche questa informazione allora ce la andiamo a copiare e ce la scriviamo nel nostro bel file quindi qui scriviamo qr decodificato e qua andiamo invece sotto a inserire users user ftp ok e facciamo un bel ctrl s perfetto ok quindi un user mi sembra che allora quindi ce l'abbiamo che è Robin e allora quindi a questo punto visto che poi anche il file di password che era qui sotto è andato a finire nell'altro è andato a finire nell'altro terminale le password e cacchio sei finito allora eccolo qua allora qua non sono tante queste parole chiave quindi volendo potremmo andare a fare ehm un brute force utilizzando magari idra ehm però ehm però lo facciamo in metodo ssh quindi allora quindi facciamo un po' di pulizia quindi ehm questo qua com'è che si chiamava? pilist ok sì clear allora possiamo utilizzare idra ehm idra meno l e mettiamo il nome robin meno p pilist punto lists s finale punto txt e mettiamo il nostro indirizzo della macchina 192 punto 168 punto 42 punto 117 ssh tempo meno t 4 ok ok e diamo un invio ok avevo trovato perché non andava praticamente col t4 non so perché il command non mi funziona comunque vabbè adesso lo proviamo senza il t4 quindi ssh invio ok si sta connettendo perfetto oh eccola qui abbiamo trovato la nostra password allora abbiamo trovato la nostra password quindi possiamo intanto copiarci questo nuovo utente e questa password nel nostro file copia riprendiamo il nostro file andiamo giù e ci andiamo a copiare questi dati qua e allora quindi adesso possiamo allora quindi avendo nome utente e password provare la modalità ssh quindi proviamo ssh robin che è il nome at 192.168.42.117 diamo invio a your source to connect to the string yes yes ok la password che era quella che abbiamo trovato prima quindi la riprendiamo e k4 con tutta questa pappardella di roba qua vediamo se facendo il copy incolla me la piglia quindi incolla selezione diamo invio ok perfetto siamo dentro in ssh quindi con l'utente robin quindi a questo punto che cosa possiamo fare andiamo a vedere tutte le cartelle quindi ls abbiamo una cartella project e un file user 1.txt che dovrebbe essere la nostra chiave quindi andiamo a vederla la nostra prima chiave cat user 1.txt invio fantastico abbiamo preso la nostra prima chiave quindi adesso la possiamo copiare nel nostro file quindi copia e facciamo che la mettiamo magari qua sopra perfetto facciamo ah sbagliato facciamo un po' di spazio qua e ci scriviamo chiave 1 invio perfetto infatti flag user one successo vabbè ok scritto un po' criptato però in fondo ce l'abbiamo fatta a prendere intanto la nostra prima chiave ora abbiamo visto comunque oltre ad aver trovato la nostra prima chiave che è presente anche una cartella appunto denominata project e quindi proviamo ad entrare in questa cartella quindi o meglio prima di entrarci vediamo che cosa c'è dentro quindi ls project barra allora abbiamo dentro uno script feedback.sh quindi vediamo che tipologia di privilegi ha questo questo script per cui cmd ls meno l project sdash no madonna sbagliato ls meno l non mi ricordo più il comando qual è allora vabbè niente sentite facciamo così non mi ricordo sono sincero non mi ricordo più qual è il comando per vedere i privilegi madonna allora ah no che scemo ls meno l senza cmd sono io che sono scusatemi sono un po' fuso quindi project slash ok allora quindi vediamo che eh i privilegi lo possono eseguire leggere tutti e quindi andiamo a vedere che cosa fa nell'effettivo questo script eh quindi cat però dobbiamo entrare nella cartella quindi cd project ok e cat ehm cat feed com'è che era scritto non me lo ricordo allora cat feedback punto sh h allora lo script ci dice allora clear cancella praticamente la shell ehm poi abbiamo un eco meno e script for feedback slash n quindi scrive sullo schermo lo script per i feedback ehm read meno p enter your name name quindi chiede all'utente di inserire il nome e quindi la variabile con la variabile name ehm abbiamo un eco quindi salta una riga ancora qua invece read ehm chiede se vogliamo ehm mettere il nostro feedback quindi c'è la variabile feedback eco salta ancora una riga e ehm dollaro feedback due maggiore dev null ehm esegue quindi la variabile con l'errore null ok allora proviamo a lanciarlo vediamo per cui sh feedback punto sh ok quindi proviamo a mettere dei dati a casa adesso non lo so metto il mio nome Stefano invio ehm enter the feedback vabbè mettiamo xxxxx diamo invio e non succede e non succede né nulla però però vedo che il meno e esegue un comando e quindi potrebbe essere questa una shell ehm di conseguenza proviamo a vedere allora quindi abbiamo visto prima che ehm intanto iniziamo a verificare i privilegi quindi sudo ehm sudo meno l e andiamo a verificare i privilegi quindi user robin may run del following command on blue moon e abbiamo poi un jerry e jerry era praticamente ehm l'altro nome utente visto prima nel ftp e che quindi possiamo usare senza la richiesta di password ehm quindi ci dice che possiamo appunto usare senza la richiesta di password il file feedback allora quindi andiamo a cambiare intanto il nome utente quindi ehm entriamo con sudo ehm sudo meno u sudo meno u jerry 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 meno slash feedback punto sh diamo un invio ok quindi siamo entrati con il nome jerry ehm diamo un invio e e una volta qua dentro proviamo a inserire il nome jerry vediamo jerry ok allora invece come e diamo invio scusate eh come feedback invece ehm proviamo a a forzare la shell appunto con il command bin ehm slash bash vediamo se funziona quindi bin slash bash ehm vediamo diamo l'invio ok ok non compare nulla non compare nulla non compare nulla e quindi posso intuire che ehm siamo dentro perché infatti il feedback finale come prima non è ehm non è apparso per conferma provo a fare il command d ok sì perfetto e siamo dentro ci siamo quindi ragazzi e ok allora adesso possiamo procedere in questo modo ehm possiamo procedere in questo modo apriamo nano ok una volta eseguito il l'editor ehm facciamo ctrl r e e e ctrl x e qui sotto in command to execute ok andiamo a scrivere questo script reset eh punte virgola sh 1 maggiore e commerciale 0 spazio 2 maggiore e commerciale 0 perché ho fatto questo comando perché così adesso vedrete che abbiamo proprio una shell vera e propria quindi diamo invio vedete ok vedete sotto ok così che abbiamo proprio una shell vera e propria quindi almeno si vede un attimino un po' meglio insomma eh facciamo un clear per pulire il tutto ok e adesso la shell come potete vedere è presente abbiamo appunto il dollaro ehm lanciamo adesso il bin bash qui ok quindi una volta lanciato il bin bash andiamo nella home di jerry con cd quindi invio perfetto siamo nella home ehm vediamo i file quindi ls e vediamo che è presente la seconda chiave user.txt che possiamo andarci a recuperare e salvare sul nostro bel fileettino di report quindi cat user 2 punto txt invio ok you found user to flag eccola qui e anche questa quindi che molto probabilmente è simile la scrittura la prima no cambia qualcosina quindi vabbè chiave 2 comunque caive chiave 2 perfetto copia ok trovata anche la seconda chiave molto bene ehm però adesso che cosa manca? ci manca sempre ehm sempre la terza chiave e quindi che cosa facciamo adesso? iniziamo intanto a fare un id in questa ehm in questa directory quindi id ok e e la cosa che ci salta all'occhio è che ehm jerry appartiene anche al gruppo ehm oltre al gruppo jerry anche al gruppo docker ok ehm quindi intanto andiamo a ehm a vedere tramite il command find ehm se eh riusciamo a vedere qualcosa di rilevante ehm command find l'avevo già fatto vedere anche nella precedente macchina di Mr. Robot comunque il lo script è find ehm find slash ehm permessi quindi meno perm meno perm meno u uguale s due maggiore di dev slash dev slash null ok e però non troviamo sembrerebbe che non troviamo nulla di rilevante con questo script ehm ok ehm anche perché comunque se facciamo un sudo in questo caso ci andrà a chiedere la password e ovviamente la password non ce l'avremo è infatti quindi è anche inutile provare a fare il comando sudo e quindi allora possiamo andare a vedere ehm con docker ehm perché questo perché con docker è possibile comunque fare escalation dei privilegi ehm prima però di farvi vedere come fare ehm vediamo intanto se attiva qualche immagine di docker e tengo a precisare che farò più avanti un video dedicato a docker anche per la creazione di un lab di cyber security ehm quindi sarà un argomento di uno dei miei prossimi video ehm quindi intanto andiamo a vedere se c'è qualche immagine attiva quindi il command è docker image list ok ok diamo un invio e vediamo che c'è un repository di nome alpine ok creato il 15 di agosto della dimensione di 5.61 megabyte ehm allora in questo caso possiamo utilizzare un un sito che si chiama gtfobins o beans ok ve lo faccio vedere adesso aprendolo ok allora andiamo su google google perfetto invio e andremo ad inserire nella ricerca appunto gtf o beans ok ok diamo un invio ok quindi il sito è questo gtf o beans e questo sito qua è un sito che una diciamo che è un sito che una è una partecipata di Github ma viene curato e dove si possono trovare delle liste di unix binarie per bypassare dei sistemi di sicurezza quindi se volete dargli un'occhiata comunque sia vi lascerò il link diciamo nel sito vedete ci sono una un po' di di opzioni insomma se volete dargli un'occhiata sicuramente è una cosa interessante e quindi che cosa possiamo fare adesso su questo sito possiamo ricercare con la parola docker e vedere che cosa ci salta fuori quindi metto la parola docker c'è solo un risultato e abbiamo quindi questa questa dicitura sulla shell che guarda caso che guarda caso possiamo lanciare un questo comando quindi per diventare root tramite docker e stranamente anche qui c'è scritto come alpine come la macchina che come distanza distanza docker che che abbiamo visto prima per cui possiamo prendere questo comando ok lo copiamo ok ritorniamo sul nostro terminale perfetto e lo lanciamo incolla diamo un invio è comparso il cancelletto ok e questo significa che siamo utenti root quindi siamo diventati utenti root e quindi in questo caso che cosa possiamo fare andiamo a recuperarci intanto facciamo un ls perfetto e andiamo a recuperarci a questo punto nella cartella root il nostro ultimo flag quindi cd slash root ok ls perfetto quindi c'è solo un file che è appunto root punto txt e lo recuperiamo quindi cat root punto txt eccoci qua congratulation tu sei diventato hai risolto praticamente la macchina che è risolto praticamente la macchina bene io spero che anche questa questa nuova macchina virtuale ribadisco una macchina virtuale abbastanza semplice dove comunque sia per chi agli inizi serve per fare esperienze e per usare una certa tipologia di ragionamento per arrivare a questi a questi risultati spero che vi sia piaciuta farò come vi dicevo degli altri video sempre su questa tematica giusto per farvi vedere anche la pratica di come utilizzare determinati tool di cali visto che col mini corso ho fatto un po di teoria però è anche bene vedere anche qualcosa di pratico e la cosa più semplice per fare pratica è appunto andare a fare questa tipologia di esercitazioni dove non si crea danno a nessuno ma dove si inizia appunto a smanettare come si dice nel gergo con il terminale bene detto questo io intanto voglio ringraziare come sempre i nuovi follower che si sono iscritti al canale aumentano sempre di più e sono molto contento di questa cosa e niente ci vediamo quindi al prossimo video su o su questa di nuovo tematica oppure farò un video dedicato direttamente a docker va bene ragazzi passate un buon weekend a presto